La foto di alcuni lavoratori Ikea mentre mangiano un panino seduti a terra a causa del divieto del colosso svedese di consentire il pasto all'interno dei locali a chi non è munito di Green Pass, pubblicata da Libertà e dal nostro sito internet, è stata ripresa da tanti quotidiani e media televisivi, facendo diventare un caso nazionale l'esclusione della mensa a quei lavoratori che non possono esibire il passaporto della doppia vaccinazione o il tampone. Devono restare fuori, magari sotto gli ombrelloni già allestiti per i fumatori, o nel piccolo spazio sotto una tettoia, a ridosso della mensa con una decina di posti ai tavoli, decisamente pochi secondo i sindacati. Ikea però non molla sulla sua linea severa. La salute e la sicurezza dei nostri collaboratori e clienti sono da sempre una priorità, fa sapere la multinazionale. Fin dall'inizio dell'emergenza ci siamo adeguati alle normative e alle indicazioni delle autorità ed è per questo che a partire dal 15 agosto, su indicazione del governo, i nostri co-worker possono consumare al tavolo o al chiuso nelle mense aziendali solo se in possesso di green pass, mentre per coloro che ne sono sprovvisti la mense aziendale prepara piatti da asporto da consumare nelle aree esterne. Tutti i negozi e il polo logistico di Piacenza hanno predisposto uno spazio all'aperto con sedie, tavoli e ombrelloni. Nel caso specifico del polo di Lemose sono state adottate ulteriori misure organizzative come la gestione agevolata dei turni lavorativi per permettere il rientro a casa per pranzo e cena. Ikea crede nell'importanza di una collaborazione responsabile da parte di tutti, si legge ancora nella nota, per continuare ad affrontare al meglio l'emergenza sanitaria e continuerà a fare la propria parte.